Siamo con l'architetto Fabio Scarpantoni, consulente per diversi alberghi della Riviera delle Palme di San Metto del Tronto per quanto riguarda le possibilità di ampliamento relative al piano alberghi che però sta avendo delle intoppi burocratici anche abbastanza consistenti. Cosa è accaduto? Allora in pratica c'è stato un ricorso a TAR da parte della provincia di Ascoli Piceno per dei vizi procedurali di questo piano particolareggiato delle strutture ricettive che ha realizzato il Comune di San Metto del Tronto. Praticamente quindi in questo momento il piano è sospeso e non sappiamo noi che operiamo nel settore, cosa dobbiamo fare e cosa succederà nell'immediato futuro. Questo cosa comporta a livello di investimenti, di opere e quali sono le possibilità che questo piano alberghi può dare agli imprenditori turistici? Come possibilità sicuramente l'ampliamento, quindi l'aumento della capacità ricettiva delle strutture e contemporaneamente un miglioramento della loro offerta turistica. Un esempio era che questo piano prevedeva che tutte quante le strutture dovessero utilizzare le energie rinnovabili, l'adeguamento sismico, tutta una serie di miglioramenti. Le conseguenze sono che siamo tutti fermi e non sappiamo come comportarci. In un periodo di crisi come questo qui dove dicono di investire per far ripartire l'economia ci sono dei piccoli dispettucci politici dove ci vanno a danneggiare e anche perché questa legge che loro stanno facendo c'è anche retroattività, sia anche gli alberghi che hanno fatto lavori prima possono essere puniti con delle multe, con delle sanzioni poi belle pesanti. Quindi la politica ci dovrà dare una mano e una risposta in questo periodo qui perché se no noi domani mattina chiudiamo tutti quanti le nostre strutture. L'unica risorsa che oggi abbiamo perché le fabbriche hanno chiuso l'80% è il settore turismo, non c'è più lavoro, andiamo tutti quanti a casa e non so che fine faremo.